uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone daie uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un velocissimo video io sono xiodar e ragazzi vi ho appena fatto vedere come nella patch 9.30 ci siano state delle modifiche incredibili a sponde del saccheggio abbiamo visto la fabbrica distrutta e i cavi ma ragazzi a parte gli sniper che mi sniperano a palmetto paradisia è tempo d'estate citazione di haidin c'è un pallone gigante vediamo se si può muovere oh shit no vabbè dai no lol no raga no vabbè se 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 pallone gigante ragazzi che si può utilizzare ed è meraviglioso e come vedete c'è anche ragazzi un ombrellone gigante per solazzarsi allegramente e cominciare a goderci l'estate insieme ragazzi ombrello gigante lettino meraviglia non ci si può salire sopra però si può distruggere quindi noi lo distruggiamo e dentro il nuovo palmetto paradisiaco potrebbe esserci mi ha detto qualcuno anche forse una nuova gelateria anche alla sauna dicono che c'è qualcosa ragazzi insomma abbiamo capito che il team di happy games vuole assolutamente che l'estate arrivi a pieno per tutti quindi date a farci un salto ragazzi e magari perché no create un mini game per i vostri video con il pallone gigante e l'ombrello gigante vi ringrazio per aver guardato anche questo video informativo noi siamo sempre in live ciao